L'evento Villaggio della Salute, tenutosi domenica 1 ottobre a Palmi, è stato organizzato e promosso dall'Associazione La Danza della Vita, con un solo ed unico obiettivo, sensibilizzare la cittadinanza alle tematiche di prevenzione e cura dei tumori. L'evento ha coinvolto e unito 63 associazioni della Regione, che si sono messe a disposizione dei cittadini per consulenze e dibattiti. L'evento è iniziato con la camminata in rosa, momento significativo dove una folla colorata di rosa ha abbracciato il significato di lotta e coraggio. Donne e uomini hanno camminato per le strade della città, uniti contro il cancro. All'arrivo nella piazza principale della città, il sindaco Giuseppe Ranuccio, assessori comunali e regionali, medici e specialisti, hanno discusso e ribadito l'importanza della prevenzione. Inoltre l'associazione ha coinvolto le palestre e le scuole di ballo di palmi e dintorni, che hanno messo in scena un flash mob come inno alla vita e alla forza per questa battaglia. All'interno della piazza, alcuni dei più rinomati medici hanno preso parte all'evento, tra i vari la dottoressa Maria Renne, chirurgo senologo della Breast Unit dell'ospitale Germaneto di Catanzaro, il dottore Franco Abbonante, chirurgo estetico della Breast Unit del Pugliese Ciaccio, responsabile regionale di Seno Network. La dottoressa Adriana Romeo, responsabile del reparto di screening per l'ASPI di Reggio Calabria, ha effettuato screening per il tumore del colon retto. E ancora la dottoressa Paola Serrano, responsabile per l'ASPI di Reggio Calabria della Unità di Cure Palliative, il dottore Saeed Al-Sayed, primario del reparto di radioterapia, e la dottoressa Anna Melchiorre, medico di radioterapia dell'ospedale Riuniti di Reggio Calabria. Presenti il dottore Giovanni Calogero, medico responsabile della formazione per l'ASPI di Reggio Calabria, e il dottore Rosario Ortuso, per la prevenzione di cardiopatie. La dottoressa Tiziana Gerace, anestesista, responsabile delle cure palliative sul territorio della Piana. I 25 stand disposti in piazza hanno permesso di offrire vari screening. Il dottore Francesco Loria, per lo screening senologico. La dottoressa Angela Lofrano, per lo screening ginecologico. L'associazione Inder Wheel ha effettuato screening diabetologici in collaborazione con la farmacia Saffioti. Ospite dell'avento anche la dottoressa Caterina Stilitano, medico del reparto di ematologia dell'ospedale Morelli di Reggio Calabria. La partecipazione cittadina è stata significativa e attiva. Uno spazio è stato dedicato a consulenze nutrizionali, del benessere mentale e fisico. L'associazione ci tiene a fare un ringraziamento anche al sindaco della città di Seminara e a tutte le 63 associazioni che ci hanno raggiunto da tutta la regione. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato e hanno dedicato il loro tempo a un tema così importante, quale è quello della prevenzione.